E' ancora possibile un giornalismo serio e impegnato in questi tempi di scandali e paparazzi? Non solo è possibile ma è necessario. Io credo che i cittadini abbiano il diritto di essere informati e di sapere per poter capire e per poter poi giudicare al momento del voto. Quindi è più che mai indispensabile. Cosa pensa delle innumerevoli scuole di giornalismo e delle regole legate ancora all'ordine dei giornalisti? Penso che l'ordine non abbia più senso, penso che le scuole siano alcune buone e altre meno buone. Credo che sia necessario però avere una preparazione specifica per fare questo mestiere e quindi vediamo molti ragazzi che vengono dalle scuole che sono in gamba come molti ragazzi che non arrivano dalle scuole. Dove finisce il giornalismo e inizia il pettegolezzo? Il giornalismo finisce quando si perde il senso delle cose. Il giornalismo non insegue il pettegolezzo, insegue tutto ciò che è portatore di senso, di significato. Questa ricerca di significato è la vera missione del nostro mestiere. La forza delle parole, può ancora qualcosa contro la forza delle immagini così a volte strumentalizzate per dare un'informazione che magari non lo è? Le immagini naturalmente sono importanti nell'era di internet dove tutto è contemporaneo, tutto è ubiquo e ogni punto della rete può essere raggiunto facilmente da un altro punto. Le parole sono indispensabili per spiegare e per capire. È importante anche dare voce alle parole dei soggetti più deboli che non avrebbero altrimenti la capacità di fare immagini nel nostro paese oggi.